Più che un cartellone teatrale, quello del Teatro di Roma per la stagione 2014-2015 è un progetto culturale esteso alla città, tanto da proporre il Teatro Argentina e il Teatro India come a Gorà Civili e case pubbliche di tutte le arti. La presentazione questa mattina con il direttore Calbi e il presidente Sinibaldi e l'intervento del sindaco Marino. Nella sfida dell'apertura estesa a 12 mesi, troveranno posto grandi rappresentazioni e progetti di dialogo e condivisione con il pubblico. Da sottolineare la formazione di una compagnia in residenza del Teatro di Roma, sotto la guida di Peter Stein, poi la partecipazione di compagnie romane che si succederanno soprattutto sul palco del Teatro India e poi grandi progetti, Roma per Edoardo, Roma per Pasolini, passando per i classici firmati da Shakespeare, De Filippo o Eschilo. Non mancherà la grande musica con l'Accademia Filarmonica Romana. Saranno complessivamente 78 gli spettacoli, 20 dei quali autoprodotti, 72 i registi, 453 le rappresentazioni, di cui un centinaio dedicate a bambini e ragazzi. Oltre alla sperimentazione di una nuova identità culturale, l'obiettivo del neodirettore è quello di avviare, nei prossimi quattro anni, una nuova gestione che sia sostenibile anche dal punto di vista economico, attraendo nuovo pubblico e nuovi partner privati.